Frequentare le borse internazionali del turismo e anche un po' viaggiare. Noi siamo a ITB Berlin e adesso vi voglio portare con me a fare un viaggio negli Emirati Arabi che hanno realizzato veramente uno stand da paura, bellissimo, dove praticamente incontriamo la giusta coniugazione tra la tradizione, guardate queste donne che indossano meravigliosi abiti tradizionali. Ecco, la giusta combinazione tra tradizione... Ciao! Ehi, ciao, come stai? Benvenuti nel nostro paviglione di Charja. Grazie, è bellissimo, merita un video tutto suo, io lo sto realizzando. Che bello! Da dove vieni? Per i mercati di Europa. Ah, che bello! Quindi parli bene italiano, ma vivi a Milano? Parlo per tre anni. Ma mi sembra che ci siamo incontrati forse qui, sempre a ITB, è vero? È il nostro primo anno dopo il corona. Bene, io apprezzo molto questa giusta combinazione tra tradizione e innovazione. Esatto, sì, a peggiori. E infatti, guardate cosa vedo. Intanto vedo un angolo di Emirati Arabi, il rito del tè, vedete? E la bellezza dei gioielli, la cura dell'incontro. Poi abbiamo una cosa molto bella, abbiamo uno scriba che sta riproducendo i caratteri arabi, vedete? Con la lentezza che lo caratterizza utilizzando proprio il pennino e il calamaio. Vediamo come fa. Dai, soffermiamoci un poco. Guardate, lui scrive utilizzando questi strumenti molto pregiati. Quindi, vedete, con un tratto sicuro. Vedete, sta scrivendo. What are you writing? Name, name, nome. Ecco, poi vedete, il risultato è questo. Quindi, perché la scrittura è un'arte. Qui ci sono delle donne che stanno decorando le mani ad altre donne. Quindi l'arte antica della bellezza. Vediamo che cosa ti ha fatto. È un po' guarda, è un po' proprio quello là. No, ma sei italiano anche tu, bellissimo. E quindi decorano la mano. Oddio, ma poi si asciuga? Speriamo. Speriamo. Ha detto un'ora. Ah, un'ora. Va bene, buona fortuna. E adesso vi voglio far vivere proprio un viaggio emozionale all'interno dello stand in cui praticamente con l'aiuto della moderna tecnologia ti immergono, ti fanno proprio immergere nel paesaggio. E fa caldo, sembra proprio di vivere l'atmosfera, proprio si viene immersi in questa bellezza. Vedete? Queste sono le cascate. Chiaramente i viaggiatori approfittano per fotografare e per fotografarsi all'interno. guardate, queste sono le spiagge. Ecco, guardate, persino la battiglia che si muove per terra mentre noi camminiamo. Quindi innovazione nelle immagini, nella proposta e tradizione. È vero, caro amico? Come ti chiami? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Stai apprezzando il mio commento? Conosciti Sharjah. E dov'è? Sharjah è la capitale di cultura negli Emirati Arabiti Uniti. Caspita, e come ci si arriva? Perché io dovrei partire da Bari poi. Abbiamo dei voli diretti? Allora, c'è un vol diretto tra Milano e Sharjah. Ah, benissimo. Ogni giorno? Ogni giorno, sì. Tanti culture, tante esposizioni dell'arte, il più grande safari nel mondo. Caspita, benissimo. Sicuramente verrò a trovarvi. Grazie. Benvenuti. Grazie.